Benvenuti alla Voce del Friuli, quest'oggi presso la sede regionale della protezione civile del Friuli Venezia Giulia per un incontro con la stampa per conoscere meglio come funziona effettivamente il numero unico 112. Noi siamo abituati, come si dice, a chiamare l'emergenza 112 però ci sono delle importanti novità ma soprattutto capire come funziona e allora se non si viene sul posto le chiacchiere non servono a nulla, è così direttore. Assolutamente il 112, anzi è più corretto chiamarlo 112 per non confonderlo con il 112 dei carabinieri, è una piccola rivoluzione che è stata portata in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, adesso arriverà e si stenderà tutta l'Italia. Sostanzialmente c'è un numero unico per l'emergenza e le chiamate vengono fatte in due passi. Un passo in cui c'è un operatore specializzato nel identificare e localizzare la persona, il cittadino, e poi c'è un operatore che è specializzato nel risolvere il problema del cittadino può essere un operatore sanitario ma può essere anche un operatore della Polizia di Stato, carabinieri o vigili del fuoco. L'112 che di fatto prende il posto dei vecchi numeri 112, 113, 115, 118 e sostanzialmente introduce una grossissima novità, un grossissimo miglioramento che è la localizzazione automatica del chiamante. Quando il cittadino chiama viene immediatamente localizzato e questo evita tutti gli errori che purtroppo capitavano nel passato in cui una localizzazione sbagliata poteva essere vitale, poteva avere gravi conseguenze. Non è l'unica novità che abbiamo portato, un'altra novità che è molto importante anche per la stagione estiva è il fatto di avere messo un servizio multilingue con ben 17 lingue, compresse quelle più improbabili come possono essere finlandese o lungherese o l'arabo e questo ha beneficio anche di tutti gli ospiti che speriamo arriveranno numerosi questa estate. Lei ha sottolineato una cosa importante, chiaramente all'inizio come tutte le cose non tutto funzionava perfettamente perché c'era molta confusione e poi chiaramente bisognava oliare il motore ma adesso piano piano la cosa sta funzionando perché io sono testimone, ero presente fino adesso nella centrale e mi avete dato l'opportunità anche di capire come funziona lo stesso operatore, il ruolo che ha nella chiamata, come smistare e via dicendo. Insomma, quello che conta è che state lavorando ma soprattutto sta migliorando il servizio. Assolutamente sì, siamo impegnati quotidianamente a migliorare il servizio. Va detto anche che quando siamo partiti, siamo partiti facendo un addestramento molto rigoroso agli operatori, li abbiamo portati a Brescia dove già c'era una centrale attiva da diversi anni per apprendere il mestiere dei colleghi quindi non siamo partiti proprio allo sbaraglio però i tempi, la velocità con cui vengono gestite le chiamate le teniamo sotto controllo giorno dopo giorno e andiamo a migliorare i tempi. Quindi anche se può esserci l'episodio della telefonata lunga o del servizio che non è proprio al top però i valori medi vanno costantemente migliorando e questo anche a beneficio del cittadino perché la cosa importante per noi, la cosa più importante è che quando il cittadino chiama riceve una risposta immediatamente, in un tempo che vorremmo portare a tre secondi neanche il tempo di ascoltare uno squillo al telefono e subito c'è l'operatore che risponde ed è pronto a servirci. Senta, mettiamo nella malaurata ipotesi perché giustamente voi siete preparati al tutto non è detto che è un servizio che funziona a 0,24 senza interruzione. Mettiamo al caso che il centralino vada in tilt piuttosto che salti e via dicendo come funziona il cosiddetto piano B? Il piano B, premesso che i centralini e tutte le apparecchiature sono duplicate e non dovrebbero mai fermarsi, però siccome l'imprevedibile può sempre succedere e lo abbiamo già sperimentato una volta che c'è stato un problema che non doveva capitare il piano B è quello di ricorrere alla rete di centrali del 112. La nostra centrale non è unica ma è messa in rete con Brescia, con Genova, con Milano per cui se ci dovesse essere un impedimento o anche potrebbe essere come è successo recentemente che c'è stato quell'incidente a Maniago in cui sono arrivate migliaia di chiamate dal Pordenonese Il centralino parte perché non è in grado di far fronte a un carico di lavoro che diventa dieci volte più intenso e mette in crisi anche i vigi del fuoco. Ecco, in quel caso c'è il cosiddetto trabocco delle chiamate per cui le chiamate che non riusciamo a prendere a noi il cittadino non sente il tono di occupato ma traboccano su Brescia e sono gli operatori bresciani a gestire il cittadino assieme ai nostri operatori. Questo ci permette da una parte di avere un numero di risorse che è adeguato al nostro territorio ma un numero di risorse che cresce elasticamente quando ci dovessero essere di una voglia degli eventi imponderabili. Ecco, questo non a caso, la domanda è uscita, non a caso proprio perché è successo nella stampa locale c'è stato questo caso delle famose smistamento bresciano, no? Ecco, giusto per far capire perché esiste questo smistamento bresciano cioè esiste perché c'è... Assolutamente, la centrale proprio perché gestisce tutte le emergenze di tutta la regione e per tutti i tipi di emergenze non deve mai fermarsi e di fatto da quando siamo partiti non ci siamo mai fermati. Abbiamo provato la commutazione su Brescia prima simulando una situazione di disastro e poi l'abbiamo provata anche quando eravamo già partiti al minimo problema elettrico che c'è stato l'operatore ha girato una chiavetta e siamo passati su Brescia siamo stati tre ore su Brescia lavorando bene con tutto il tempo di vedere cosa era successo, mettere a posto le cose capire senza l'angoscia di dover ripartire subito perché il servizio era interrotto purtroppo queste cose prima quando non c'era il 112 potevano succedere venivano fuori i titoli sul giornale Blackout della centrale del 118 e così questo genere. Senta, poi è una cosa molto importante da dire perché bisogna fare molta cultura visto che è un servizio appena partito e magari il cittadino è ancora abituato al vecchio sistema che chiamava il 112 piuttosto che il 118 e via dicendo. Non è che l'emergenza 112 manda ad esempio le ambulanze o vi manda direttamente loro manda direttamente lei i carabinieri. Questo è un servizio che serve a smistare le telefonate nel senso che il cittadino come vi ha spiegato il direttore poco fa chiama l'112 il cittadino deve dire dove si trova l'emergenza esatta e poi l'operatore smisterà lui la telefonata direttamente al servizio richiesto dalla persona richiedente. Assolutamente sì, il cittadino può aiutarci, anzi aiutarsi a ricevere un servizio migliore e più celere. Intanto essendo preparato ad avere questa telefonata fatta in due tempi un primo tempo in cui qualcuno gli dice lei dove si trova quindi prima di chiamare fare mente locale se possibile diciamo cercando di localizzare dove uno si trova sia che sia in appartamento sia che sia per strada ma la cosa importante se vi trovate in appartamento e avete la possibilità di scegliere fra usare il cellulare o usare il telefono fisso preferite il telefono fisso perché il telefono fisso dà una localizzazione puntuale e come ha visto anche alle telefonate immediatamente si sa chi è la persona invia l'indirizzo numero civico non si perde assolutamente tempo l'altra cosa che mi sento di raccomandare a tutti con tutto il cuore usate l'app 112 vi faccio vedere visto che il direttore io non è che ci siamo messi d'accordo non è che ci siamo messi d'accordo prima di venire qui di scaricare l'app io il giorno stesso che è uscita sono andato a cercarmi avete nel mio Anvaradam c'è il famoso 112 forse ancora adesso c'è anche il riflesso della luce però io ad esempio ce l'ho scaricata in modo tale che voi anche se siete senza scheda chiaramente in caso di emergenza sempre utilizzare queste cose in caso di emergenza pigiate si apre dove vediamo cosa succede bene e poi dopo di che uno se vuole chiama altrimenti chiude la cosa e in automatico viene localizzato sia in questo momento faccio la chiamata ipotesi adesso non lo facciamo perché non vogliamo andare chiaramente a intasare automaticamente sanno dove mi trovo cioè in tempo reale il gps mi dice che sono all'interno della protezione civile e arrivano a controllare quello succede non solo ma un'osservazione importante è possibile fare con il telefonino le cosiddette chiamate silenti se uno si trova in condizione di dover chiamare aiuto senza poter parlare che penso ai casi bruttissimi in cui uno vede dei ladri che stanno entrando in casa vuole chiamare soccorso ma senza farsi sentire oppure una persona sta male non riesce a parlare oppure possono essere anche i casi di persone che per disabilità non possono parlare uno solamente premente un bottone chiama soccorso la polizia i carabinieri o i vigili del fuoco o l'emergenza sanitaria quindi è il sistema più rapido per far arrivare immediatamente chi desiderate nel posto esatto. Quanti operatori operano per quanto riguarda l'1-1-2? Ma avete visto oggi noi abbiamo una presenza fissa di operatori che può variare dai sei operatori alla mattina ai quattro operatori notturni. In realtà diciamo noi abbiamo un organico di 29 operatori che si alternano in modo da dare servizio H24 sette giorni su sette. Io ho assistito anche a una telefonata importante di una persona che si trovava in difficoltà nella zona di Cividale però probabilmente la cellula del cellulare non agganciava la rete italiana ha agganciato la rete slovena e in automatico la rete slovena ha passato immediatamente la telefonata al vostro operatore che nel giro insomma di 20 secondi si è risolto un problema. Assolutamente sì quando si parla di sistema messo in rete noi siamo in rete non solo con le altre centrali del 112 che sono operativi in Italia penso a quelle della Lombardia piuttosto che non della Liguria ma siamo in rete anche con le centrali del 112 dei nostri amici trasfrontalieri quindi in primis con slovenia austria e croazia con tutti abbiamo fatto degli incontri prima di partire ci siamo scambiati i numeri di telefono e quindi sappiamo perfettamente come gestire queste cose così come abbiamo anche un contatto con il centro interforse di tor maglern dove lavorano assieme forse dell'ordine di austria italia slovenia e germania quindi con tutti questi collaboriamo e siamo in rete per passarci le informazioni. Io penso direttore sarei d'accordo ma penso di sì alla fine un po' tutti che questi appuntamenti magari si possono replicare più volte fino a quando riusciamo a far entrare nel granusalis che cos'è il servizio 112 ripetiamo non 112 ma mettetevelo in testa 112 è come il famoso 911 americano però d'altronde si sa che la gente fino a quando non glielo fai entrare non c'è niente da fare da lì non si schiodano perché ci saranno comunque le solite polemiche si perde tempo via dicendo usare ripetiamo questo servizio proprio per emergente assolutamente sì ricordiamoci che le perplessità e le polemiche ho scoperto c'erano anche negli altri paesi trasfrontalieri poi dopo il numero diventa nella cultura di tutti quanti ed è impensabile tornare indietro adesso l'112 che uno lo faccia in italia in austria in croazia in slovenia ottiene sempre lo stesso servizio e viene diciamo gestito come se fosse in italia insomma non resta che augurarle buon lavoro e ci vediamo alla prossima allora alla prossima breve grazie ciao 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 ciao